ciao ragazzi ben ritrovati ultimamente sto facendo un pochino meno video perché sono impegnato con la stampa 3d e tra progettazione test e via dicendo il tempo che mi resta è veramente poco ovviamente in questo devo anche vivere e quindi capirete che una persona normale da priorità alle cose più importanti ora sempre in tema di stampe 3d in questo periodo oltre ad aver riesumato la mia alfa wise u20 sto testando diversi materiali per ottenere i risultati più o meno validi dal punto di vista della progettazione devo stampare degli oggetti mediamente di 30 e passa centimetri anche collegandoli tra di loro insomma devono essere forti meccanicamente quindi dal punto di vista progettuale è importante che abbiano determinate caratteristiche ma quello che è anche fondamentale è la scelta ovviamente dei dei materiali in questo dovuto alla stampante siamo in parte limitati perché fondamentalmente il materiale più facilmente gestibile è il pla ciò nonostante devo dire che in queste bobine di materiale tra virgolette organico derivato dagli amidi della canna da zucchero sto trovando un ottimo riscontro un'ottima un'ottima qualità ora qui tra le miei mani c'è uno scarto di una stampa fallita questo è praticamente il contorno che la stampante fa gli oggetti per assicurarli per bene al pianino stampa quindi stiamo parlando di una sola passata di filamento l'altezza era impostata a 0 20 mm e gli strati i filamenti sono ben coesi tra loro e ho approfittato di questo scarto per vedere quanto fosse realmente biodegradabile visto che su diversi siti il pla veniva veniva presentato come un materiale che nel giro di circa 45 giorni compostato a una temperatura di circa 60 gradi si discioglieva completamente nell'acqua ora io non sono arrivato a 60 gradi non sono arrivato nemmeno 45 giorni ma ho voluto fare un test su questa strisciolina praticamente mono filamento di 30 giorni immerso in un bicchiere d'acqua così come vedete a una temperatura di circa 30 gradi costanti devo dire che mi aspettavo un minimo di dissoluzione di corrosione di quello che è lo strato stampato però questo pla ha arretto magnificamente questo qua è marca elego ve lo dico subito e una volta asciugato come vedete non da residui né sul sul tovagliolo bianco né al tatto cioè non noto una dissoluzione del materiale o un una degradazione dell'unione tra tra le fibre che dovrebbe essere ovviamente il primo fenomeno da riscontrarsi ancora i filamenti sono perfettamente saldati tra loro e questo mi fa pensare che tutto sommato l'uso del pla possa essere considerato molto molto più ampio di quello che in origine si pensava magari per favorire altri tipi di filamento puramente chimici o perlomeno non organici e quindi devo dire che il pla mi sta favorevolmente sorprendendo da questo punto di vista ve lo metto un attimo più vicino a favor di camera anzi vi metto proprio un fondo scuro così potete notare che il filamento risulta ancora perfetto anche se cerco con l'unghia di andare a spezzare vedete niente da fare questo è un filamento immerso per 30 giorni in acqua a 30 gradi circa assolutamente perfetto quindi pla eccellente per quanto riguarda stress chimico e durabilità in acqua tra l'altro sento dire da molti youtuber che il pla assorbe l'acqua cioè mi aspettavo di trovarmi di fronte a un materiale che sarebbe diventato una spugna invece niente non c'è nessuna variazione rispetto a quando iniziato questo esperimento ad oggi anche andandolo a stirare dal punto di vista elastico o di lunghezza non noto nessun cedimento per quanto comunque si tratti di un materiale rigido cioè questo non è che si allunghi più di tanto a un certo punto si strappa cede di colpo e via però andando a stirare nulla perfetto la biodegradazione non è avvenuta ora se non avviene per un monostrato di filamenti allineati in questo modo sicuramente per qualcosa di più corposo si tratta di un fenomeno che necessita veramente anni per non dire qualche decina d'anni quello che ci vengono a dire sulla biodegradabilità effettivamente non mi non mi sembra così così esatto così veritiero d'accordo con questo è tutto io come sempre vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo a breve con i nuovi video e iscrivetevi al canale ciao